Peace, love, salve ragazzi, bentrovati di Antonio Di Lorenzo. Oggi voglio parlare di un prodotto fantastico che abbiamo appena sviluppato. I nuovi gel della Vulcan, dei gel rivoluzionari anche se semplicissimi. In pratica sono dei gel per i piatti che si possono utilizzare anche sui tamburi. Cosa hanno di rivoluzionario? Una cosa meravigliosa. Hanno praticamente una sola superficie adesiva. Che cosa voglio dire? Noi conosciamo anche gli altri prodotti che ci sono, che sono ottimi. I mungel per esempio, gli slap clats che sono di questa ditta, molto carini, le sordine Vincent. Tutti noi abbiamo sperimentato questa cosa che è abbastanza antipatica dopo aver utilizzato queste sordine per un po'. Dopo un po' si polimerizzano e soprattutto se li lasciamo sui tamburi o sui piatti in studio di registrazione o durante una session o quando suoniamo, la polvere e la segatura prodotta dalle bacchette le rende così nella migliore dell'ipotesi o anche peggio. Invece con queste sordine tutto questo non succede. Sono fantastiche. Una volta tolta la plastica protettiva che noi possiamo riutilizzare, li possiamo mettere sul piatto e guardate, aderiscono perfettamente. Tolgono il giusto necessario e soprattutto, cosa molto importante, aderiscono anche nella parte sottostante, guardate. Senza assolutamente cadere, tengono botta nel migliore dei modi, guardate. 5B per essere un po' più cattivo, diciamo. E tornando a noi, poi possono essere riposte nella custodia e ne abbiamo addirittura, questo serve molto da un punto di vista economico, non male come cosa, 10 per ogni confezione. Ce ne sono di tre dimensioni, questa più grande, grandezza media e una grandezza piccola. Quindi, 10 sordine, una confezione trasparente e soprattutto possono essere, come già le altre sordine, lavate, riutilizzate e durano molto di più perché quella parte superiore è leggermente più rigida, sicuramente aiuta molto nella conservazione del prodotto. Da un mese che le utilizzo e sono veramente felice. Vengono vendute in questa simpatica confezione che vi faccio vedere, ecco questa qui, dove c'è appunto la scatoletta, e dietro c'è anche un coupon, pensate, per il 5% di sconto sui piatti Vulcan. Peace, love, have fun. Ciao, ciao ragazzi.